ciao oh non riesco a trovare un cazzo d'intro va bene non mi interessa la faccio più semplice che mai ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video in questo nuovo video metro quadrato era da un bel po' di tempo che non ne facevo uno eh vero? 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 calma calma voi oramai siete abituati a vedere i miei video pieni di contenuto molto pieni di contenuto non perdiamo tempo e andiamo subito il metro quadrato di quest'oggi dove si svolgerà? esatto in asciazzo la cosa bella è che chiaramente in questo palazzo non ci sono soltanto io ci saranno un'altra trentina di persone più o meno per cui non la utilizzerò solo io l'ascensore cioè nel senso non è mia ovvio vediamo un po' che cosa succederà al prossimo entriamo ok chiudi tutto chiudi il todos bene ottimo con questa inquadratura eccezionale possiamo cominciare il tutto sono le se non sbaglio ehm 10 di mattina più o meno 10 e 10 10 e 10 il metro quadrato è appena iniziato terminerà domani alle 10 e 10 giuro giuro andiamo al quinto piano vai ok quinto piano se fammi giretti vai è partito è partito no ma la cosa bella è che non c'è aria qua dentro non si respira ma infatti al quinto piano apri ah tanto l'importante è che stiamo in ascensore non ci siamo portati neanche un po' di cibo neanche un po' di acqua ah una parciata tu puoi uscire sono io che devo rimanere qua dentro ok ok carlo tu puoi uscire tranquillamente a dopo lo sai che faccio? mhm che fai ho sentito uno che sta entrando da sotto e vuole chiamare l'ascensore stanno chiamando l'ascensore non ne so no io invece allora visto che questa qua praticamente diventerà la mia cazza è giusto che ti cedegui esatto devo allora questa ho metto un po' quello ha il cappadoglio per la doccia esatto non aprire ok adesso non aprire le porzine mi fa vedere qua figo carino sono passati più o meno 20 minuti da quando l'ascensore è bloccata sai e per fortuna nessuno l'ha ancora chiamata regà perchè domenica ok rimaniamo in funzione perchè no io voglio andare al quarto sono lentissima sono lentissima mmm 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 boia ok siamo al piano terra ci sentono dobbiamo stare molto molto zitti molto molto calmi mi chiedo dallo specchio eh ho veramente fame vai adesso andiamo al primo piano e tu mi prendi da mangiare perchè è quasi l'ora di pranzo io ho alquanto appetito sono sono già tipo tre ore all'incirca che sto qua dentro è una bella situazione visto che c'è molta aria si respira tranquillamente no cazzo stavo per mettere la mano di fuori così mi sento al sicuro regà ma la cosa bella è che se chiamano l'ascensore cioè io che cazzo gli dico loro magari mi dicono ma che piano devi andare e io nessuno cioè però è accogliente devo essere sincero è accogliente come ascensore ciao sono Anthony e abito dentro un ascensore se magari quella testa di merda si sbriga ho fame beh le mie scarpe ciao scarpe quanto sono carine ma che ci faccio con quelli mi serviva qualcosa di sostanzioso tipo un piatto di pasta si certo no tipo con un patto di pasta dentro l'ascensore non lo mangio qual'è problema non lo risolto 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 oh che schifo fanno cagare non ti reggereo mai nella vita oh si vede dal tuo specchio si vede oddio lo sta fanno davvero oddio oddio non mi dire che casca per te rapicio che schifo che schifo oddio oddio no che schifo 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 oh no che schifo che puzza ora mangiati un bel birri no mi sono pisciato nei pantaloni infatti portami tipo uno straccio dai la tengo io questa va prendi uno straccio sbrigati mi sei in culo non qua Dio guardate che casino mi si inculano vai raga è disgustoso anche nel buco ho lì in mezzo oppure se lo mangia guarda che disastro guarda ma dovevo no no mi ha lasciato solo sta merda guarda che sto accogliendo oh primo piano questo è il piano vera spingere push che bastardo guarda stronzo non ci siamo capiti ok arrivato ti sei in culo erano proprio il best eh lo so adessia adessia vieni a fare un po' di compagnia chi è Anthony non c'è sta cazzo dai da porca troia eh 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 lo so ehm serve un no lo sapevo che me si inculavano prima o poi ragazzi mi è un pochettino sfuggita di mano io devo uscire da questo ascensore devo perdere per forza di cose questo metro quadrato perchè se no ci si inculano veramente non inculano me inculano mia madre ecco ho preso il moch vai sei pronto vai lo sei asciugato le pulizie di Carlo vai sono il papa apprezzate lo sforzo cioè nel senso sono rimasto qua per tutto il tempo che potevo diciamo solo che mia sorella e mia madre hanno sgamato il danno che praticamente ho fatto qui che poi non è un danno irreparabile però cioè è brutto perchè chiaramente l'ascensore non è mia e adesso sono costretto a fare ciò sicuro di quello che fai? ok è uscito questo tipo ha perso e se ne va a casa da perdente te credo no noi dobbiamo sistemare veramente cioè un po' di idea ovvero veramente ma più corta è la fra che può essere difficile posso sentire ok gente per cui questo era il video è finito piuttosto male perchè come al solito dobbiamo sempre esagerare quelle cose fortunatamente siamo riusciti come avete visto dalle clip precedenti a rimettere tutto quanto a posto per cui abbiamo pulito abbiamo sistemato il tutto anche se non è che abbiamo fatto tutti questi danni però visto che l'ascensore non è mio ma è di tutti è giusto che appunto dovevo rimettere a posto tutto quanto chiaramente se vi è piaciuto e vi è strappato un sorriso vi ricordo di lasciare un bel like raggiungiamo almeno 30.000 mi piace per questo video perchè comunque è successo quel che è successo quindi lasciate con un commentino qua sotto altri video metro quadrato o altri altri video metro quadrato o altri video tortura che posso fare quello più votato verrà scelto chiaramente come sempre al prossimo metro quadrato si dovrò fare una penitenza ad inizio video vi lascio il link a tutti i miei social network facebook, instagram, twitter armadio nemo iscrivetevi al canale e niente noi ci vediamo al prossimo video del metro quadrato no non è vero se beccamo domani alle 15.30 con un nuovo video eh si perchè ma un video al giorno si si belli raga ci vediamo